L'Ecranet di Pescara compie un'importante scoperta. Si tratta dell'organizzazione internazionale che nel corso dell'Adriatic Workshop vede in questi giorni ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo riuniti ad analizzare, confrontare e discutere studi e osservazioni su raggi gamma, processo teorico in astrofisica relativistica di stelle e neutroni, buchi neri, supernove e ipernove, annunciando con grande soddisfazione i risultati di un giovane ricercatore brasiliano. La grande scoperta è che un giovane ricercatore di origine brasiliana che dirigerà il nostro centro dati che abbiamo qua a Pescara ma che in fibra ottica si dirama dall'Armenia al Brasile e dirigerà questo centro ha scoperto 300 nuove sorgenti di nuclei galattici attivi. Cosa sono? I nuclei galattici attivi sono degli enormi buchi neri di 100 milioni di masse solari che sono attivi. Ricercatori provenienti da Argentina, Cina, Spagna, Brasile, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Colombia, Armenia e Italia arrivano a Pescara dopo la tappa di Nizza, altra sede Icranet nel mondo, in un'iniziativa che ha interessato numerose università come Brema, Ferrara, Oldenburg, solo per citarne alcune. È una scoperta importante nel senso che spiega parte della radiazione che era vista come diffusa ma che adesso riusciamo a spiegare come sorgenti puntiformi. quindi in resumo abbiamo trovato un modo di arricchire o spiegare meglio quello che osserviamo nel cielo nella banda di radiazione gamma.